in un campionato dettato da rimini inizia a formularci l'alfabeto bianco rosso usufriamo di alcune lettere evitando per scaramanzia di adottare il significato c come serie c v come vittoria del girone allora ci divertiamo a fare un rewind sul passato recente quando il 4 agosto scrivevamo in anteprima di una trattativa aperta con l'imprenditore claudio gabellini originario di san giovanni marignano c come costruzione g come l'imprenditore gabellini l come leader del girone di serie d f come futuro o come omaggio di una maglietta bianco rossa con nome di germinale tutto creato per una base futura perché in caso di obiettivo prefissato raggiunto c'è bisogno di introiti economici di un riassetto societario adatto per categorie superiori da campo alla partita un rimini che parte forte con la correggese dalla bandierina gabbianelli scodella per carboni centrae difensivo stacca di testa ma mette la palla sul fondo da rimessa laterale di roducca rimini passa combinazione torelli andres con pallone che termina nei piede caldo di piscitella che il libro di concludere non perdona portando i rimini vantaggio l'ex di turno simoncelli manifesta la presenza in campo dei suoi ma la sfera è lontana dal bersaglio da calcio piazzato gabianelli pesca mencalli l'attaccante di testa fa da sponda per la corrente torelli che calcia alto timida sortito finzione della correggese con questo calcio piazzato battuto a simoncelli per roma che chiama la comoda presa marietta i rimini invece sempre pericoloso tonelli mette al centro per la testa di mencalli l'attento mora ci mette una pezza in chiusura di tempo dopo il tentativo della correggese con conclusione finale di roma deviata in corner ad inizio riprese rimini potrebbe chiuderla definitivamente il tiro di piscitella viene salvato sulla linea di porta dall'ex pupeschi dalla bandierina gabianelli pennella per pannelli cui colpo di testa viene bloccato da mora a 25 cento della ripresa rimini pervene a raddoppio il solito gabianelli batte un calcio piazzato allontanato dalla difesa reggiana sul piede caldo di ferrara che in volet trova il gol della domenica repre è meritato per la malattrezza realizzata dall'attaccante del rimini e via alla festa meritata il conto piede c'è spazio e tempo anche per ammirare germinare l'ex vice pesaro rischia il trissimo la sua conclusione si perde al lato di un nulla a novantesimi tiro al giro di tonelli si perde al lato termina qui una gara che vede rimini sempre più leader di questo girone a regge di passo tre scalini sotto è rimasto il solo lentigione grazie a tutti